Noi abbiamo attualmente 2300 ucraini nel nostro territorio metropolitano e siamo in grado di ospitare tutte le persone che servono. Non abbiamo stime perché purtroppo lo sviluppo della guerra è imprevedibile, ma siamo pronti a ospitare il numero che è necessario ospitare, senza limiti, perché riteniamo che in questi casi non sia logico e non sia realistico porre dei limiti con uno sviluppo che è del tutto imprevedibile. Firenze dunque apre le sue porte ai profughi in arrivo dall'Ucraina. A garantirlo è stato direttamente il sindaco metropolitano Nardella nel corso del Summit Europeo delle Regioni e delle Città a Marsiglia. Il sindaco è presente nella città francese anche come presidente di EuroCities, il principale network che raccoglie le città europee di medie e larghe dimensioni e come nuovo membro del Comitato Europeo delle Regioni. Nell'occasione il primo cittadino ha rilanciato il rapporto di fratellanza con Kiev. I contatti con il sindaco ucraino proseguono. Ho sentito il sindaco ieri mattina, ovviamente è nascosto anche perché è uno degli obiettivi principali delle squadre regolari russe e mi ha detto che hanno bisogno di aiuti immediati, aiuti economici e di beni necessari per la popolazione di Kiev. Come città gemellata siamo impegnati già con la Croce Rossa internazionale, ma molte altre città italiane ed europee sono attive nel costruire questa rete di solidarietà. Nell'accorso del summit è arrivato anche un accorato appello all'Europa a fare di più per la pace. Si procede a questo punto rapidamente con la procedura di integrazione non solo dell'Ucraina, ma anche della Moldavia, nell'Unione Europea, perché questo può essere, a mio avviso, un'alternativa efficace all'ipotesi dell'ingresso nella Nato. Un'alternativa pacifica, politica, molto forte.